Un bel saluto a Dutskent! Vedasone il benvenu a una nuova puntata di Da Fasan Kurt, la neves di questa settemena. La Sudaladina Festa del Lengaz 2015 in Txekestan la vennerà in direzione per la prima settimana di me e la portarà dando l'argomento della musica e della chantia di mendranza. Da una prima scontreda ante i gruppi di musica e i musici che facciamo, venne fuori delle belle idee. Dopodiché la scommensazione per fare reclame e ingerire tutti gli altri attraverso la Sudaladina, la Stata portadante non ha proponato di mettere in essere, con gruppi o da soi, che il video faccio col fonin. O la che ha una vita gustegola e originale se dà fuori il messaggio A Sudaladina 2000 Kines. Gesù! Il video è vennerà daci fuori per la televisione e sui social, a una vita che viene fuori una rete di comunicazione su tutti i territori. Già domani, dunque, a tutti i musici e cantari in fase, demanerete il video all'uffizio dei servizi linguistiche e culturei del Comune Generale di Fasan. Il video più originale è vennerà premiato la settimana della Sudaladina. La provincia autonoma di Trent fa saere che si pese insinuare al prum e secondo livello di istruzione scolastica e formazione per l'anno 2015-2016. Per l'insinuazione alla classe prum e si consiglia sulla piatta internet www.servizionline.provincia.tn.it e l'area Insinuazioni scolastiche, o là che si trova la procedura online. Seppel si insinuare alla scolina, scola popolera, mesena e auta tanto a livello privato che pubblico, tanto che si è fuori ai sedi di Fire, e accorso per gente grana alla scola Autes tanto che si è fuori ai 31 di agosto. Il progetto per l'Associazione di Fassa, indrezzato da Alfredo Weiss col Comune Generale di Fassa, va in anno con la scontreda e mertes ai tredi di Fire dalle sott da sera, o là che ragionerà il dottor Antonino Guella, consulente del Centro di Servizi di Volontariato di Trent, di SEMA con l'ingegner Piero Mattioli della firma QSA. Gli argomenti che vennerà fatti fuori saranno «Segurezza sull'orier e in dretze di venti», «Responsabilità civile in versi etres e i volontativi dell'Associazione», «Responsabilità di amministradores, di volontativi e della terza persone», i contratti di assegurazione per la responsabilità in versi etres e la tutela legale. Vengono inviati due rappresentanti dell'Associazione a torperta alla scontreda e alla sala grana del Comune Generale di Fassa. Vi ricordi che per avere informazioni potete usare al Comune Generale per telefono o girare sulla piatta internet. Se volete vedere due programmi della programmazione ladina, potete girare in su Youtube, canale Programmazione Ladina TML. Deve il paio di una scuola su, alla settimana che viene! A presto!